Dunque, voi lo sapete perché a noi carabinieri ci mettono la striscia rossa vicino ai pantaloni? No, perché altrimenti ti mettono il contrario. Maresciallo, maresciallo, maresciallo vi devo dare una brutta notizia, una notizia che mi spaccherà il cuore. Ma perché? Che stanno? Quello ragazzo, quello ragazzo che stava con noi qua in caserma, Guagliarulo, Guagliarulo. L'ha puntato a Guagliarulo? E' morto, si è suicidato. Oh, che dolore, come mai? E' a causa della depressione, aveva una depressione fortissima. E per quale motivo ti mettono? E' perché il povero Guagliarulo da due anni mangiava sempre un panino con la mortadella, panino e mortadella, panino e mortadella, non ce l'ha fatta più la depressione, è morta. E beh, allora è colpa della moglie. No, è colpa della soglia. Perché? Perché ho panino, sono preparato per sé stessa.